Parte con la richiesta di riattivare i posti letto di assistenza pediatrica, ma diventa occasione per richiedere una seria riorganizzazione della sanità locale. La lettera che il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, ha inoltrato a Presidente di Regione, Assessore alla Sanità e alla Direzione Generale dell'ASL BCO. Ancora una volta, purtroppo, mi vedo costretto a ricordare che nell'ottobre del 2018, con l'inizio dei lavori per la... Grazie per la visione!